saluti al corfo e gli faccio tanti auguri e buone feste e dal corfo guerra mi pare che qui però sta diventando a lotola e quindi spero che si faccia sentire quando sarà presto quando sarà presto quando sarà presto comunque ragazzi la notizia non è una notizia mi avete chiesto dove hai a capo d'anno da gigi d'alezio che fanno io ma te io vado organizzando la gigi d'alezio però sai che volevo fare per accogliere meglio il cantante in questa nostra roma calonosa mi mandava di accogliere la maniera di richard benson come fanno i fan di richard benson portasse verso un cartone da 500 ova e lanciarle a diciamo a chi ne merita insomma a gigi d'alezio e forse tra gli altri anche a gigi d'alezio no no poco a gigi d'alezio un bar tavolo di uova con polli yogurt quello che è io non lo so ragazzi sarebbe un cavo d'anno eccezionale lo facciamo ma te io ci vado lo porto con giro a jonathan se non vieni te però gli lancio un giro a jonathan gli lancio un giro a gigi d'alezio oltre che un milione di uova che mi porterò e spenderò 100 euro ragazzi non gli lancio buon cavo d'anno buone feste a tutti ciao ciao